Musica 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 Tutto è nato da una collaborazione tra amici che non altro ne eravamo anche dei fornitori nel campo del wedding il nostro obiettivo è quello di regalare emozioni, sorrisi senza escludere nessuno, da la alla zeta può essere una comunione, un battesimo, un diciottesimo, un matrimonio, un compleanno il nostro obiettivo è rendere tutti i momenti indimenticabili e soprattutto tenere soddisfatto i clienti perché noi non diamo servizi ma diamo ricordi qui siamo cinque soci io che sono una wedding planner, event planner mi occupo anche di allestimento palloncini e altro poi abbiamo il videografo e fotografo Cristiano Giuseppe il flower designer Marco Carvelli il videografo Danilo Scalise e anche la ceramista che fa le bomboniere i The Art di Squillage quindi siamo trovati per creare questo bel progetto e inoltre abbiamo anche i fornitori dietro di noi che sono i nostri collaboratori come nel campo della musica nel campo del DJ nel campo delle macchine delle atelier di tutto proprio non abbiamo escluso assolutamente nulla Elite nasce da un progetto comune un progetto che riguarda e abbraccia a 360 gradi tutti gli eventi dal matrimonio agli eventi alternativi coccoliamo le nostre coppie quindi vogliamo che Elite curi le nostre coppie a 360 gradi e soprattutto vogliamo fornire ogni tipo di servizio in grado di soddisfare le esigenze dei clienti anche quelli più minuziosi i servizi fotografici e videografici sono cambiati i clienti cercano qualcosa di più particolare qualcosa di più filmico, di cinematografico e noi siamo in grado di fornire proprio quello che loro hanno in mente quindi venire incontro alle loro idee svilupparle insieme e allestire alla grande con i nostri designer tutto quello che riguarda proprio una timeline di un matrimonio completo quindi dalla scelta della location alla scelta del fotografo, videografo e del flower designer soprattutto coordinati dalla nostra wedding planner Grazie! 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 Grazie!